Ehi tu, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale, attiva la campanellina e goditi i video! Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato! Hello bella gente e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi, come da titolo, andremo a fare l'unboxing dello Xiaomi Mi Band 3, perché per chi non lo sapesse ho comprato lo Xiaomi Mi Band 3 da Amazon e mi è arrivato giovedì, quindi sono già tre giorni che lo sto utilizzando perché oggi è domenica e devo dire che sono davvero molto contenta dell'acquisto. Però oggi non andremo a fare una vera e propria recensione perché tre giorni mi sembrano abbastanza pochi per aver provato una Smart Band e quindi andrò a fare una recensione poi in futuro. Però per adesso volevo farvi vedere appunto l'esperienza di unboxing, anche se comunque è un prodotto che è uscito da un bel po' sul mercato e quindi già l'ha fatto tipo tutta YouTube Italia. Però come sapete io arrivo sempre dopo e quindi oggi vedrete il mio unboxing dello Xiaomi Mi Band 3, che è questo qui che appunto sto indossando adesso. Non ho acquistato gadget particolari perché appunto ce l'ho solo da tre giorni, però conto di farlo in futuro perché comunque mi permetterà di personalizzarlo ancora al meglio. E niente, non perdiamoci ancora in chiacchiere, iniziamo subito con l'unboxing. Come vedete la confezione si presenterà in questo modo e all'interno della confezione, dopo aver fatto fatica ad aprirla perché non si apriva, non riuscivo, troveremo il Mi Band avvolto in una pellicola di plastica in modo da non sporcarlo e lo troveremo già montato, quindi già a barraccialetto, insomma. Dopo di ciò togliamo il Mi Band e lo mettiamo da parte e apriamo il vano con le istruzioni, che sono in tutte le lingue, anche in italiano per fortuna. E quindi quello lo mettiamo da parte perché poi lo leggeremo dopo o forse no. Dopo di ciò troveremo un altro vano dove è contenuto all'interno il caricatore, il caricatore che non è uguale a nessun altro dispositivo, quindi ovviamente lo tireremo da parte e lo metteremo in una custodia in modo che non si rompa. Purtroppo il Mi Band mi è arrivato scarico, quindi ho dovuto caricarlo per circa due o tre orette per farlo arrivare al 100%. Dopo di che ho scaricato l'app del Mi Band sul mio smartphone, ovvero la Mi Fit. Dopo di ciò ho fatto tutte le varie cose, quindi ho collegato il Mi Band all'app, ho impostato tutte le varie cose e adesso ho qui il Mi Band pronto sul mio braccio e devo dire che mi sto trovando davvero molto bene. Non è ovviamente uno smartwatch, quindi non si possono fare chissà quante cose, però comunque per quello che ci devo fare io è molto molto utile e adesso vi dirò perché l'ho comprato. Ho comprato lo Xiaomi Mi Band 3 soprattutto per il rapporto qualità-prezzo perché ovviamente prima di comprarlo ho visto un botto di recensioni sia su Amazon, sia su YouTube, sia su vari siti e devo dire che ne parlavano tutti benissimo. Quindi ho deciso di provarlo anche perché volevo un qualcosa che mi contasse i passi e che non sia il mio smartphone perché comunque lo smartphone capite bene che non ce l'ho sempre in tasca ma magari a volte lo lascio a casa, a volte lo lascio a scuola, da qualche parte, quindi non ce l'ho sempre. Mentre lo Xiaomi Mi Band 3 mi permette di averlo sempre al braccio e di monitorare sia tutti i miei passi e sia comunque di monitorare il sonno. Infatti lo sto usando la sera, infatti non me lo tolgo, ci dormo e monitoro il sonno tipo questa notte, tra la notte tra sabato e domenica ho dormito 9 ore e 20, manco i bambini e sì, quindi diciamo che mi è utile per capire come dormo se magari ero più nervosa, se magari ero più stanca o cose del genere. E niente, devo dire che mi ci trovo davvero molto bene, anche i passi ho visto che comunque è abbastanza preciso e ovviamente come tutti gli altri Mi Band monitora anche la frequenza cardiaca quindi posso sapere in ogni momento qual è la mia frequenza cardiaca. L'ho preso soprattutto però perché volevo iniziare ad andare a correre quindi mi serviva un qualcosa che mi monitorasse la corsa e le calorie bruciate e quindi lo farò con il Mi Band. Ovviamente lo testerò a fondo, capirò bene come funziona e tutto il resto per poi portarvi poi una bella recensione accurata sul canale. Intanto ho cercato di fare qualche ripresa un po' più particolare del Mi Band quindi fatemi sapere se vi può piacere, se vorreste vedere altre cose del genere se magari vi piacciono gli unboxing e le recensioni e le vorreste sul canale. Grazie a tutti.